25 comuni al voto nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni per le elezioni amministrative dei prossimi 3-4 ottobre entro sabato 4 settembre. La presentazione delle liste. I comuni sono Altavilla Silentina, Castel San Lorenzo, Castellabate, Ceraso, Controne, Corletto Monforte, Moio della Civitella, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Padula, Perdifumo, Pollica, Roccadaspide, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Teggiano, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati. Il 4 ottobre conosceremo direttamente i sindaci eletti perché essendo tutti i comuni inferiori a 15.000 abitanti non saranno previsti ballottaggi.